Cancellare definitivamente qualsiasi ipotesi di nucleare in Italia, abrogare la legge su legittimo impedimento di premier e ministri, sì a una gestione pubblica dell'acqua che deve restare un bene di tutti. Il Partito Democratico ha le idee chiare, al referendum del 12 e 13 giugno è fondamentale non disertare le urne e votare sì perché al primo posto ci sono gli interessi dei cittadini e la qualità della vita delle persone. Un appello forte e chiaro sottolineato a Bari dal segretario provinciale del PD, Vito Antonacci, neo primo cittadino di Adelfia e sostenuto anche dai candidati sindaci dei comuni di Casa Massima, Modugno e Ruvo di Puglia. Riteniamo che l'acqua sia un bene pubblico e tale dovrà restare. Il nucleare va assolutamente bloccato e specie in Puglia che in qualche modo vede alcune decisioni del governo essere uno dei territori a rischio di scelte infelici come anche quello sul legittimo impedimento. È un sì convinto non solo sul quesito referentario ma anche sulla politica in generale della giustizia che il governo ha compiuto in questi anni. Il popolo nei referendum decide sul serio e chi non si reca alle urne commette non solo secondo noi un errore di valutazione politica ma rinuncia all'esercizio della democrazia e questo non va mai bene. Quindi un appello accorato a tutti i cittadini della terra di Bari.